Buonasera a tutti ragazzi, io sono Golden Yoshi e oggi siamo in questo nuovissimo gioco Ehi, eccoci qui, siamo in un alveare, benvenuto nel mondo Sei un lavoratore, devi raccogliere nettere e polline Ora puoi iniziare a lavorare Aspetta Oh cavolo, sei bene, puoi parlare? Oh amico, questo è venuto fuori male, non posso permettere alla regina di scoprirlo Jerry, Jerry, vieni qua Amico, smetti di urlare, li sveglierai, cosa vuoi? Lo smaltirai presto, prima che la tua altezza si accorga? Oh, cosa è successo qui? Non lo so, solo... vattene da qui E da qui in poi inizia la nostra avventura Ok, andiamo per di qua Prendiamo questo bidone, non so cosa sia Saliamo in questa specie di fungo Qui ci sono le spine Quindi dobbiamo essere attenti a non cadere Questi fiori ci potrebbero mangiare Quindi dobbiamo essere molto attenti Ok, ci sono un mucchio di spine Qui devo cercare di salire Cerchiamo di non cadere Che sennò ci dobbiamo rifare tutto da capo Ok, eccoci qua Oh, ciao amico Questo che cos'è? Guardami Sono così bello Ho le ali ora Tutto quello che dovevo fare era Rallegarmi nel mio stesso sputo E bam Tutti i miei sogni diventano realtà Mi sento così vivo Ok, ora Dobbiamo viaggiare con questa foglia Credo che sia una foglia Ed eccoci qua Aia Allora, come prima cosa Prendiamo questa ghianda Per permetterci di salire Ecco Ora portiamo la ghianda Per di qua Per aiutarci a salire Per di qua Qui ci sono Un sacco di tizi Va bene Devo parlare con questo Ehi, idiota Cosa pensi di star facendo A saltare la linea in quel modo? Pensi che sei più importante Di tutti gli altri? Torna in linea Riesci a sentirmi anche tu Sono così malato E stanco di lavorare con voi Sto giorno Ho finito Smetto Preferirei essere schiacciato Piuttosto che dover parlare Di nuovo Con un altro deficiente Come te Oh no Chi è sta cosa? No, ci stanno mangiando tutti Ecco Ci ho digerito Il gioco in teoria Inizia adesso Appunto Ho capito Ecco Siamo In un nuovo livello Ci stanno tipo Misurando L'altezza di queste gabbie Stanno misurando La larghezza E l'altezza Ora che stanno facendo? Ho capito Ora si stanno esaminando Benvenuto nello stomaco Credo che dobbiamo prendere la O E metterla esattamente qui Per sbloccare il passaggio Abbiamo una specie di ponte Con le nostre cose Così avremo più possibilità Di passare Perfetto No, che è sta cosa? Un mago mutante Aia Vi vuole far esplodere? Comunque ora abbiamo Un pulsante per accedere All'altro All'altro mondo Questo potrebbe essere Abbastanza tosto Come livello Beh Più o meno Oltre a Venire come delicei Non è poi così Tanto difficile per me Eccoci qua C'è una papera Insaliamo su questa papera Aia Forse Devo andare un po' più piano Ecco Facciamo una specie di T-Parkour Che cos'è questo? Un tubo? Allora Facciamo questo pulsante Ok Il pulsante serviva Per togliere l'acqua Da qui E queste casse Servono A fare un passaggio Pricchiamo di nuovo Questo pulsante Ecco qua L'acqua risale E in teoria Possiamo Attraversare Ecco Infatti Ora Mettiamo un'altra Cassa qui Schiacciamo di nuovo Il bottone Che è molto utile Perfetto Ora Credo che dobbiamo Schiacciare nuovamente Il bottone Che si trova Là sopra Vediamo Ok Perfetto Ora Possiamo andare Per di qua Non c'è uno Di quelle cose Mutanti Aia È abbastanza forte Devo cercare Di farle esplodere Eccola qui Ora Oltre ad essere morto Abbiamo comunque Una cassa Che ci aiuterà A passare Questo palo Questa è la città Dello stomaco Ok E' un'opera Di qua Oh Abbiamo Del carburante Questo pulsante Vediamo A cosa serve A creare un passaggio Perfetto Questa specie Di esserino È molto ricco Può permettersi Anche di andare Con le navi Di fare tutto Ma credo Che dobbiamo Entrare In uno Di questi Tubi Esatto Abbiamo Il trucarburante Che ci servirà Sicuramente Per proseguire Con il nostro Viaggio Andiamo Ora aspettiamo Che ci porti Da qualche Altra parte Questa nave Eccoci qua Credo che Dobbiamo fare Un parkour Proviamo Andiamo Per di qua Ok Credo che Dobbiamo disattivare Tutti Quei laser Anzi È sicuro Che dobbiamo Disattivarli Tutti Cerchiamo Di bloccare Questo Il primo È andato Il secondo Se andiamo Per di qua Perché Questa cassa Ci servirà A bloccare Questo laser Ecco qua Mentre quest'altra Ci servirà Per bloccare Questo laser E di nuovo Prendiamo Questo carburante Che Che come Abbiamo capito Servirà Ad alimentare La nostra nave Per raggiungere Qualche Isola O una roba Del genere Baccandogli Tutti e di più Siamo finiti In un'isola Di schifezze Ora qui C'è Un faro Cerchiamo Di salire I laser Vanno Tipo A ritmo Quindi dobbiamo Essere veloci Ecco Infatti Riproviamoci Uno è saltato Il secondo Anche Il terzo Anche Il quarto Anche Il quinto Il sesto Anche Perfetto Ora ci dobbiamo Buttare da qui E schiacciare Questa leva E dobbiamo andare In questo punto Ok Ce l'ho fatta Dentro Il tempo Devo dividere Il video In due parti Perché Purtroppo La durata Del video Era troppo lunga Quindi detto questo Ciao 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 Grazie a tutti